L'autunno in cui tornarono i lupi di Mario Ferraguti, la tribù degli alberi di Stefano Mancuso e il moro della cima di Paolo Malaguti. Sono i tre libri finalisti dell'edizione 2023 del premio letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze-Valdisieve. La terna dei candidati è stata ufficializzata oggi nella sede della Giunta regionale a Firenze. I libri sono stati selezionati fra una rosa di 14 testi proposti da altrettante librerie indipendenti del territorio, seguendo il tema scelto dal Comitato del Premio, che per questa edizione è Ambiente ed Energia Fonti di Vita. La premiazione avverrà sabato 20 maggio nella splendida Abazia di Vallombrosa, dove una giuria conferirà un premio in denaro che il vincitore devolverà a un Ollus a sua scelta. Ci fa il piacere che questo premio abbia sempre una visibilità maggiore, fra l'altro supportato dal Presidente Gianni, che ha sempre visto in questo premio, un cercare di riscoprire, di ridare valore a un territorio come quello di Vallombrosa, dove saremo sabato per la cerimonia di premiazione. Forte anche in questa edizione è il coinvolgimento degli studenti di una scuola del territorio, l'Istituto Balducci di Pontassieve, che lavoreranno sul tema del premio e sui libri finalisti. Al migliore elaborato andrà una targa ed un premio in denaro da destinare all'acquisto di libri. Grazie. Grazie a tutti.